Capodanno verso il tutto esaurito a Rimini, con buona pace per i quasi 600 tra alberghi e residence aperti a San Silvestro. Piovono telefonate a centinaia in questi giorni, tantissime le richieste con soggiorni medi fra i 3 e i 4 giorni, dice il resto del Carlino Antonio Carasso, presidente di promozione alberghiera, ad essere preferite la pensione completa. Cennone di fine anno compreso, una città che risulta attrattiva anche per i molti eventi, che in questo periodo dell'anno riesce a mettere in cantiere, piace la mostra dedicata a Federico Fellini, ma anche il presepe di sabbia, un'attrazione davvero unica, capace di rilanciare una città che mai, come da qualche anno a questa parte, in questo scorcio di fine anno, aveva ricevuto tanti apprezzamenti, mentre 20 anni fa gli alberghi aperti a Capodanno erano relativamente pochi, qualcosa ha iniziato a cambiare, incalza ancora Carasso e oggi sembra entrato nella testa degli italiani, che rimine una destinazione particolarmente appetibile, anche grazie alla formula del Capodanno più lungo del mondo, e a prezzi decisamente contenuti, in un hotel a 3 stelle, possibile per notare in pensione completa, con Cennone a 60, 80 euro al giorno a persona, cifra che per i 4 stelle lievita 100-120 euro, rimine insomma a fare il pieno anche a Capodanno. Abbiamo seminato per 9 anni sul format del Capodanno più lungo del mondo, e ora raccogliamo i frutti, gongola il sindaco Andrea Agnassi, che aggiunge abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare e sostenere la qualità dell'offerta ricettiva, con risultato che adesso non si parla più dell'inverno di Rimini come di un fuoristagione, ma di stagione piena.